ragazzi voi lo sapete io non ho quasi mai parlato degli arbitri però tutto a un limite tutto a un limite l'Inter eh non può più secondo me permettersi di stare zitta l'Inter deve rispondere soprattutto alle dichiarazioni del signor Sogliano che dice testuali parole capisco che sia più bello parlare dell'Inter che vince lo scudetto e non del povero Verona che ha subito un torto probabilmente qualcuno più in alto del VAR attenzione probabilmente qualcuno più in alto del VAR ha deciso dovesse andare così queste sono le parole di Sogliano davanti a cui non possiamo far finta di nulla non possiamo far finta di nulla e io spero vivamente che qualcuno risponda a questo signore che dice delle cose gravissime lui lui dice eh delle cose molto ma molto gravi io gli vorrei dire al signor Sogliano perché non sei andato a rompere i coglioni dopo il pugno di gatti a giudici eh perché non sei andato dopo il pugno di gatto a giudici perché non sei andato a rompere i coglioni sei stato zitto è stato muto come mai rompi i coglioni all'Inter è Sogliano forse siete voi e siete tutti d'accordo per rompere i coglioni all'Inter che dici tra l'altro tra l'altro per quello riguarda poi il fallo di bastoni io io mi sono scordato di dire una cosa Doig viene preso in petto o puoi fischiare quel fallo non ti dico non lo puoi fischiare lo puoi fischiare non lo puoi fischiare viene preso in petto lui stramazza a terra ecco il giocatore in quel momento sta millantando di aver preso o di aver subito in colpo in faccia perché lui si tiene la faccia ma sei stato preso in petto degli anni 90 venivi ammonito per questa roba qua se vi ricordate fini anni 90 mentre ora capito bisognerebbe fermare le azioni per una roba del genere se ti ha preso in petto tra l'altro se ti avessi preso in petto in maniera forte e saresti rimasto senza fiato non ti alzi per guardare come va l'azione capito caro Doig te guardi l'azione come va a finire poi dopo vedi che va male ti alzi e protesti ma di cosa state ragionando di cosa state ragionando ti prende il petto e ti tocchi la faccia cioè già quello fa capire già quello ti fa capire tanto tra l'altro poi dopo io mi sono rotto i coglioni cioè con questi qui che dovrebbero essere stati radiati da dieci anni dal campionato italiano plus valenze false eh esami combinati eh e poi fino a prova contraria nei tribunali ci sono loro non ci siamo noi noi possiamo essere indebitati tecnicamente falliti tutto quello che ti pare ma non siamo noi nei tribunali ci siete voi nei tribunali e poi con questi che hanno un pugile come difensore che non lo dice nessuno ma te lo dico io una squadra come la juventus che gioca per 80 minuti nella propria area non ha che ha un pugile dietro che fa arti marziali non solo pugilato non hanno subito un rigore contro non hanno la juventus non ha subito una squadra che gioca 80 minuti in area non ha subito un rigore contro ricordatevi anche il rigore non è stato dato di bologna una roba vergognosa e questi qui vengono a parlare di noi questi vengono a parlare di noi questa gente qui viene a parlare dell'inter nasca è lo stesso non ha dato rigore il juve bologna è lo stesso evidente o c'è quindi di cosa state ragionando voi ma poi la malafede di chi la malafede di chi ci hanno dato un rigore il novantasettesimo ma la malafede ma poi hanno dato contro all'inter un rigore inesistente ragazzi ma di cosa posate il fiasco voi avete bevuto troppo durante le feste te lo dico io cioè loro che hanno sporcato per anni il calcio italiano vengono a rompere i coglioni a noi ma ti rendi conto dove siamo arrivati stanno girando la frittata dopo tutto le schifezze che hanno fatto loro e ci vorrebbero fare ci vorrebbero far apparire come loro noi non siamo come voi non saremo mai come voi non vanno fischiato un rigore contro e ce ne erano 7 8 da fischiare durante il girone d'andata di cosa ragionate vergogna li fanno fare fuggilato a voi voi dovete voi dovete stare muti muti non avevo mai parlato degli arbitri ora mi sono rotto i coglioni ma notta non parla perché penso al dopo inter i figici non me ne frega nulla a me a me all'inter mi serve uno con i coglioni che vada lì e che si faccia sentire perché dopo quello che ha detto il signore il signore del verona non si può stare zitti perché se stai zitto potresti anche far apparire tu sei malafede e non parlano perché ci hanno il culo sporco come si dice da me parti no noi dobbiamo parlare perché il signore del verona dice delle cose gravissime davanti a cui non si può far finta di nulla ragazzi ci sono quelli o quelle maghiacce bianconere che stanno rigirando la frittata e vogliono far passare noi per quello sono sempre stati loro calcio italiano all'estero è visto male grazie a loro alle schifezze hanno fatto loro non a noi ciao vite